Per fortuna i turisti non sono sempre gli stessi. Immaginate cosa penserebbero se arrivati in visita a Castel del Monte a Natale e decidessero di tornare a Pasqua, anche solo per rivederlo affascinati da tanta bellezza. Cambiano le stagioni ma la situazione attorno rimane sempre la stessa, come se il tempo non fosse mai passato. E così dall'ultima eccezionale ondata di maltempo di fine anno sulla Murgia. Gli alberi spezzati e i rami caduti sono qui da almeno tre mesi, senza che nessuno sia mai venuto a rimuoverli. Spettacolo non certo edificante per chi arriva da queste parti e si chiede cosa mai sia accaduto. Il peso della neve è la forza del vento, certo, il resto è solo rimpallo di responsabilità, comune, provincia e regione. E intanto ai lati delle strade che portano al castello, sia per chi viene da Andrea che da Corato e della salita che arriva dritto al maniero di Federico II, solo e soltanto quello che vedete. Fino a qualche tempo fa, giura chi la zona la frequenta, gli alberi pericolanti arrivavano sulla carreggiata con rischi incalcolabili per gli automobilisti. Adesso sono stati spostati ma i pericoli rimangono a poche ore dalla Pasquetta, quando i boschi saranno invasi dagli appassionati delle passeggiate o dai picnic e a pochi mesi dalla stagione calda degli incendi. Senza un'operazione di bonifiche il rischio concreto è che questa diventi una vera e propria polveriera.